Dottoressa Grancrelli qui a Pianella ha tenuto un importante incontro con i genitori degli alunni per parlare di un problema che oggi è di grande attualità come quello dei vaccini. Quali sono le norme e quali sono i consigli da dare a questi genitori? Il problema è stato quello dell'applicazione di questa obbligatorietà di alcuni vaccini per l'iscrizione a scuola. Abbiamo chiarito come obbligatorietà significa un impegno per alcuni tipi di vaccino, che sono nove vaccini in tutto, che sono quelli che sono contenuti nella vaccinazione, che facciamo sempre ai bambini piccoli l'esavalente, più il morbillo, rosolia e parotite. Solo per i nati 2017 c'è l'obbligatorietà per la varicella. Visto gli imminenti scadenze, il 10 settembre per quanto riguarda i nidi e le scuole materne, il 30 ottobre per tutte le altre scuole, quindi con email a vaccini.scuola il genitore ci richiede il certificato o il completamente o dei vaccini. E noi siamo impegnati a rispondere personalmente al genitore e a dare a lui tutto quello di cui ha bisogno.